Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, io mi presento, sono Cristina Baldan, sono nata e cresciuta a Venezia, ci risiedo dopo aver trascorso un lungo periodo in realtà all'estero. Ho avuto la possibilità di studiare per un periodo in Spagna, io sono laureata in lingue, ho avuto la possibilità di vivere e confrontarmi con una realtà come quella barcellonese dove ho vissuto tre anni, che è una realtà complessa e mi ha arricchito molto. Poi però per vicende personali ho deciso di rientrare e di tornare a casa. In Venezia io l'ho sempre percepita come casa mia, ho delle radici molto profonde e le ho sentite ancora più radicate proprio nell'esperienza all'estero. Ora lavoro all'università, ma la cosa che mi rende più orgogliosa è che in realtà è il fulcro dal quale nasce questa esperienza, che è la mia prima esperienza di politica attiva, è l'Associazione Culturale Metricubi, di cui io sono presidente, orgogliosamente, dal 2012. Siamo una piccola realtà culturale, organizziamo concerti, incontri, presentazioni, piccoli eventi culturali, con uno sguardo dedicato a chi in città investe energie per una produzione culturale dal basso, vera, partecipata e collettiva, soprattutto aperta a tutti. E quindi è con questa esperienza e con la voglia di fare bene per casa mia e per casa nostra, che insomma mi metto a disposizione della città e di quanto vorranno votarmi. Io sto lavorando a stretto contatto con un altro candidato presente nella lista Casson, che è Enrico Vianello, è un architetto, anche nato e cresciuto a Venezia, si è formato a Venezia, ma ha moltissime esperienze a livello internazionale, perché collabora con uno studio di architetti estremamente quotato e con progetti molto interessanti. E quindi, niente, siamo qui a disposizione di tutti per chi vorrà votarci e dare veramente un volto nuovo a questa, che è veramente l'occasione per farla più bella, più ricca e più concreta a casa nostra. Grazie mille.